Processo aperto e subito aggiornato a febbraio per il caso dell'Apecar comunale che ha portato in tribunale l'ex sindaco di Argenio Roberto De Angeli, 36 anni, rinviato a giudizio con l'accusa di peculato. L'inchiesta è nata da un esposto presentato da un consigliere di minoranza. Non si sono costituite parti civili. L'ex primo cittadino, secondo l'accusa, avrebbe prestato a un ragazzo del paese l'Apecar comunale per fini privati, ovvero per trasportare materiale presso il Lido di Argenio in concomitanza con l'evento denominato Porchetta Party. De Angeli è assistito dall'avvocato Elisabetta Di Matteo. Secondo la tesi della difesa, in quei giorni di agosto del 2017 i ragazzi non stavano facendo altro che ripulire una darsena con l'uso proprio della Pecar. Il materiale era stato poi portato all'esterno del Lido di Argenio. L'udienza è stata aggiornata a febbraio, quando in aula verranno sentiti i testimoni sia del pubblico ministero sia della difesa. In aula potrebbe parlare anche l'ex sindaco. Grazie. Grazie a tutti.